11 anni fa Marino Sferra per un incidente nei campi fu sottoposto ad un complesso e delicato intervento chirurgico. Da allora è iniziato il suo calvario in giro per gli ospedali della penisola. Sina quando la osteomielite, un'infezione dell'osso spesso d'origine batterica, non si è manifestata in tutta la sua virulenza. Marino ha già perso due dita del piede. L'infezione però rapidamente sta salendo verso l'inguine. Sto soffrendo con mancare. Purtroppo non ci stanno anestesisti in ospedale del genere, cosa che è impossibile, perché là si operano tutti i giorni. È grandissimo l'ospedale San De Morio di Termoli. Mi ha visitato, sa le condizioni che sto e perché non mi chiamano per tagliare il suo benedetto piede. A marzo è stato visitato a Termoli. A seguito della visita è stato richiamato per effettuare degli approfondimenti clinici in dei hospital. Doveva essere operato d'urgenza per l'amputazione del piede, ma a Termoli mancano gli anestesisti. E così da giorni trascina la sua esistenza sulla poltrona di casa tra atroci sofferenze. Volevo solo fare un appello a questi medici che sanno la gravità di questa situazione. Mi riferisco al dottor Pino Gallardi che ha visitato il mio marito e sa in che condizioni sta. E se ne dice che non ci sono anestesisti, non è giusto, si deve vedere quello che si deve fare. Questo mi sta tutti i giorni sopra, sopra, non dorme più che i dolori, atroci. Non si può andare avanti così. Per cortesia, provvedete, provvedete. È impossibile che non ci stanno anestesisti, è uno schifo. Non si può andare avanti così. Vedete come si può fare. Io parlo per me e pure per la povera gente che stanno in attesa di un intervento, una cosa. Stava la sanità, deve finire, che noi paghiamo le tasse. Si deve finire.